Nella mattinata di venerdì 26 luglio i carabinieri della compagnia di Chieri hanno eseguito un'ordinanza applicativa di misure cautelari nei confronti di quattro persone. L'attività investigativa, condotta dalla stazione di Villa Stellone nel periodo febbraio-maggio 2019, ha riguardato alcuni soggetti che si sono resi autori di numerosi episodi di spaccio al dettaglio di Ashish, nei comuni di Torino, Villa Stellone e Santena e Carmagnola. Sono stati accertati oltre 50 episodi di cessione di sostanze stupefacenti e arrestati tra italiani un cittadino marocchino residente a Torino e Iterland, gravemente indiziati a vario titolo del reato. In diversi casi è stato accertato che uno degli arrestati cedeva la sostanza stupefacente direttamente dal balcone della propria abitazione, utilizzando un paniere legato a una cordicella, che veniva lasciato cadere fino alla strada dove l'acquirente, una volta pagata la sostanza, riceveva all'interno dello stesso la merce. Tre soggetti sono stati tradotti presso la casa circondariale Lorusso Cotugno di Torino, mentre il quarto è stato accompagnato presso la propria abitazione agli arresti domiciliari in attesa dell'interrogatorio.